Ahahahah Sta venendo a prendermi Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un'altra nuova strepitosa incredibile magistrale Pieno di catarro live sul canale di daniela doesn't matter con daniela doesn't matter e tutti voi le persone più Importanti del pianeta sono riunite qua in chat e nella mia live quindi Voi siete persone speciali Ricevono quello che Meritano Il peccato e il passato sono sempre manifestati senza la mente dei peccatori Un'eternità di sofferenza aspetta Benvenuti to the server La gente dice che questo gioco consigliato Wow Ok bello mi piacciono queste cose con la musica vecchia Press the space key to start Press E to interact with objects Va bene Eh è tutto buio Andiamo avanti Oh Abbiamo preso il flashlight Bene Ahah una lavanderia La bella lavanderia che lava i fazzoletti E le maglie di plastica dura Ok che strano modo di concepire le stanze Oh no hanno cagato sotto il tappeto Oh no hanno cagato sotto il tappeto Bella madonna Mi ha fatto venire il tumore agli occhi sta televisione Allora qui Che stanza essere questa? Uno studio E qua c'è una chiave La prende? Ah ma abbiamo il corpo Figo abbiamo anche un ombra Una testa Siamo persone Ma la sigaretta è accesa? Due sigarette accese? Ma come stanno? Va bene La chiave non la vuole raccogliere Qui Abbiamo un comune armadio Qua c'è l'ombra di una sega Secondo me questo gioco farà cagare sotto Questa sensazione Ok Possiamo andare al piano di sotto Abbiamo esaminato tutto Questo è chiuso Madonna è gigante Un'altra casa gigante Mi sto aspettando il mostro da un momento all'altro Set Otto Go Madonna santa Ma perché il lampadario sta ruoteando da solo? C'è un Ah Molto meglio con la luce accesa Oh abbiamo del carne Qui abbiamo del carne bruciata Lavandino aperto Un telefono che squilla Un telefono che squilla Use the cell phone by pressing the space button Look at enter 5 digit per password E non so quale sia la password Come si legge qua? Ah già che c'è il super zoom Ah mi dice di guardare nelle televisioni credo quindi Dai ora polemizza per il tipo di carne che c'è sul gioco No no Master bedroom Other bread room Living room Fa questo? Un putto Un putto a tuo favore Eeeh come la leggo sta roba Press P to open the pause menu Il documento Non mi interessano i documenti Allora il primo è il master room Quindi torniamo sopra Adesso succederà la merda lo so Questa qua Sarà il master room Channel 2 Waffanculo Alto halo Mi ha fatto spaventare 8 Segnate c'è Segnate il numero 8 Poi Other room Che è l'altra stanza da letto Merda E' questa che l'ho lasciata accesa Questo numero è il 29 E l'altro è in the living room Quindi non è questa la living room E' questa qui C'è il televisore qua 97 82 997 Voila Closet jpeg Help jpeg Ma che telefono è? Closet jpeg Una foto dell'armadio E qui è una foto di una mano The server Welcome to the server You have been chosen Bla 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 Are you currently situated in your home? Yes Sei attualmente impiegato? Si Do you Tu usi il tuo telefono Il device A volte? Si Did you Hai dimenticato la tua password Del tuo mobile phone? Si Trovare la password Per il tuo telefono E' stato facile o difficile? Facile Is anyone with you In your house No Non c'è nessuno in casa con me C'è qualcuno Con te Normalmente? Non lo so Sei uno studente di college? No Ti piace stare a casa da solo? Si Ma devo rispondere io A nome del personaggio? Rispondo a modo mio Come se rispondesse a me il test Does it ever feel creepy When you are alone? No You have experienced the phenomenon of feeling As you If you Have been watching But in reality You are not No No This phenomenon quite frequently Especially when it runs through the panic Do also Do no Do no statue o bambole in casa How many television are currently in your home? Ma devo rispondere Di casa mia o di casa loro? Sono più di due Grazie per aver partecipato Per favore prendi una pausa E continueremo più tardi Va bene Cosa sono queste qua? Un altro X 9D Ma tutta sta terra Tutto sto casino Chi l'ha fatto? E quando? Direi che possiamo andare tranquillamente A vedere cosa succederà Al piano di Berco diaz Cosa si è rotto? Si è spostato? E bastardo Bastardo L'angelo Bastardo Spegni sta televisione Oop Mannaccia Torniamo di sopra Oh Un foglietto Chi è? Chi è che piange? Il water C'è un'ombra lì C'è un'ombra lì La mano Che ieri Paura Quindi possiamo scendere ora Angelo Angelo Prenditi cura di lei Telefono Telefono Until Time Until next time Ah ok Ci danno suggerimento Se non siamo in grado Si può fare di nuovo il test For the next proportion of the survey Next bla 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 Are they working properly? Si Did you notice anything strange? Yes She heard you Hide Thank you for your input The next set of questions involves your personal preference concerning music Ti piace ascoltare la musica? A chi non piace? Ti piace ascoltare la musica rock? Si Ti piace ascoltare il rap? Si Ti piace ascoltare classic music? Si Ti ricordi il gusto di tua sorella in fatto di musica? Non ho una sorella We have a song that you might enjoy listening Turn on the radio downstairs and listening Va bene Eccola qua Vediamo se ci piace Non ci piace Io continuo a accendere questa merda di luce Della cucina E qualche stronzo mona me la viene a spegnere Torniamo su Vabbè ma allora andate a fa c***o Ma anche qua c'è un cartello adesso Un quadro con una roba Due SD Andiamo giù E chi aspetta Porca puttana Va a fan c***o E chi aspetta Porca puttana Va a fan c***o Hanno portato via qualcuno con la diarrea Andiamo su E di nuovo che mi aprono i rubinetti Qui Cioè l'idraulica La rete idrica la paga il fantasma Ah Stavolta l'ha presa la chiave Quindi possiamo andare a aprire il basement sotto Ah ma questa è una microstanzina Sembrava chissà che roba E qua c'è un foglio Oh cristo santo No si è riuscito alla tv C'è il mostro Che si muove Mamma mia mi cago addosso ogni volta che mi devo girare Si risale Chi è che piange dopo Eccolo Ecco tuuuue Dove vai? Che ansia Eccolo lì Moogna 9 2 6 4 9 2 6 4 89 2 8 9 2 6 4 8 9 2 6 4 8, 9, 6, 2, 8, bitch, 4 E dove li infiliamo, sti numeri? Proviamo un po' col cellulare, se c'è il test, sì Did you enjoy the song? No Do you remember what happened to her? No Do you remember what happened to your family? No The screaming, can you hear it? No Have you seen her? Yes Are you lying? No She's watching you Do you feel her eyes on you? Yes Turn around Mi sono girato Do you hurt the footstep? No Error 882 997 Yes No Si è rotto 2 2 Ah Bisogna forse toccarli in ordine giusto Quindi Ok 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 8, 9, 2, 6, 4 L'8 è giù 8 9 Il 2 è su 2 Eh, il 6 e il 4 dove sono? Dove c'è il ripostiglio, dove c'è la sega sulla parete a destra 6 Manca l'ultimo che è il 4 che non so dove sia però Non so dove cazzo è il 4 Sotto non c'è Deve essere sopra Prima di scendere le scale sulla destra ci sono dei quadri Ah, questi Eccolo Grande Ho fatto, Radio Ho fatto il tuo enigma Sicuro, Ado? Perché dovrei andare Alla croce adesso In base a quale logica Gesù, perché sei morto? Non serviva a niente Ma infatti si è aperta questa porta Ma santo Dio Avevamo risolto già l'indovinello Si era aperta questa porta Allora Fuori, vedi Non sobbiamo qual test di Rorschach Presa L'angelo che avrà combinato casino come al solito Sono quadrati qua I cadi Dov'è l'angioletto casinista Che fa il micchia bordello Mi sa che il gioco l'abbiamo quasi finito Non ci sono più stanze Oh, oh, oh Il quadro è diventato mostruoso No Chi è che piange dove? Uh, uh, uh Nota Due note Una E due È andata al piano di sopra Ma per me può continuare a piangere Dove si trova Non è che la devo cercare per forza Qui, sotto la doccia Però ci avete fatto caso Che sono sempre le donne I fantasmi Avete mai visto, che ne so Un uomo di 45 anni Grasso ciccione Che fa il fantasma No Sarebbe figo però Perché siamo più tenibili Però immagino appunto Che figata Un ciccio Oh, oh Mi hanno chiuso dentro Non posso più uscire Non mi interessa Sta storia Passa oltre Mica sì Parla Non la finisce più di parlare Le rifeli Ogni volta che sembra che abbia finito Aggiunge pezzi Non si può neanche spegnere Oh, oh È venuta a piangere davanti alla porta Chi è? Ci siamo? Ora mi ha aperto No Oh Sta stranza Intanto ho spento tutte le lampadine Ma io Ah, ma io le riaccendo tutte Dalla prima all'ultima Apre i rubinetti Ma spegne le lampadine Dove è corsa via? È un lamantino Oh, oh, oh Ponto di domanda Foglio Eccola lì La zoccolona Ancora Ancora Che mi viene addosso Eccolo qui L'ancionetto Ancioletto 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 Non mi fai salire? No Non posso più salire L'angioletto non vuole Angioletto Non mi fai né spegnere la luce Né niente Dimmi Dimmi Ancora Dobbiamo ascoltare Allora Ha finito di fare l'audio Alla radio Quindi Sarà successo qualcosa di nuovo Ora Se n'è andato L'ancionetto è sparito C'è un foglietto Beh che palle Boh di nuovo chiuso qua dentro Adesso spero di non dovermi vedere un altro video Ecco Non me la fa neanche più riaccendere Ah Che parte è? Dalla ringhiera delle scale? Uh Il monster Ma dove va? Dove va? Dov'a? Dov'a? Sta venendo ad aprirmi Il mostro più lento del mondo Tanto è morto Mica c'ha fretta Mi ha aperto Grazie signora mostra Porco diaz Ma piange il mostro Poverino Si è aperta una porta La porta di sopra Mi sa Ma l'ancionetto Dov'è andato intanto? Mi manca Angioletto Si è aperta la porta E qui abbiamo Un'altra nota Robo Lo strobo God is dead God is dead Spento Sta venendo a prendermi Va a finire che scopi con il mostro E mi porta sempre a letto Ah ma anche la lampadina è diventata rossa Va bene C'è scritto qua Aha Che palle sta parte di storia Basta Mamma mia Durerebbe 20 minuti di meno Il gioco Se non avesse sti pezzi Finito Boh La tipa ha preso fuoco Ma quindi noi L'abbiamo uccisa noi Abbiamo dato fuoco alla casa P***a se sei brutta Brucia De servei E quindi Porca troia Che merda Ragazzi Vi auguro una buona serata Vi mando tanti bacetti E grazie per essere stati con me E buonanotte Musica